Eccoci davanti a un'altra bellissima occasione proposta dall'AutoBaselli, dove abbiamo modo di mettervi in contatto con il signore che ce la sta lasciando. Signor Otavia, come mai lei ci lascia una macchina così bella? Per che motivo è meravigliosa la sua macchina? La macchina è sempre ferma perché io sto lavorando all'estero e è un peccato non sfruttarla perché è una macchina bellissima. Ecco il motivo per cui ce la cede il signore. Mi dice che la tengo sempre in garage, la uso poco, voglio venderla e comunque tanto io all'estero non ci vado in macchina e sono sicuro che il prossimo cliente sarà soddisfatto. Possiamo dirlo? Certo. Tanto lei i soldi vi ha presi. Certo. Grazie. Il signore sarà soddisfatto, il prossimo acquirente sarà certamente soddisfatto di questo acquisto.